Siamo qui con l'ospite d'eccezione Clementino. Clementino allora si è realizzato il tuo sogno? Uff, mamma mia che giornata. Siamo divertiti. Una giornata un po' movimentata. Sì, sì, però è una bella giornata. Quanti sogni ancora ci sono da realizzare? Tanti, tanti. Sono tantissime cose da fare. Sono contento perché è la prima volta che mi capita di ricevere premi dalla mia città, dal mio paese. Sì, sono veramente contento. Non mi aspettavo, io credo che era solo un premio, invece c'è stato tutto. Grazie mille. Facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Ciao Street News. Grazie Clementino, ciao. Grazie a tutti.